5 smartphone top di gamma a confronto, soprattutto top di gamma dal punto di vista delle fotocamere. Sì, non sono impazzito, sono 4, ma adesso vi spiego tutto. Ho fatto le foto, le ho messe online senza dirvi quale smartphone aveva fatto le foto. Vi ho fatto votare, avete scelto quindi voi. E adesso guardiamo quali sono gli smartphone che vincono e quelli che perdono. Prima di tutto voglio invitarvi, se non l'avete mai fatto, a iscrivervi al nostro canale, attivare la campanella delle notifiche, perché lo sapete, a me piace fare un po' questo gioco al buio in cui scatto le foto e poi dopo le guardiamo insieme e scopriamo qual è quella che vi è piaciuta di più, senza però sapere in anticipo chi è che le scattava. Scopriamo intanto quali sono i contendenti della sfida di oggi. Abbiamo un Samsung Galaxy Note 20 Ultra, un Vivo X51, che forse non l'avete mai sentito nominare, ma è uno smartphone top di gamma della nuova azienda, dell'azienda cinese, adesso arrivata anche sul mercato italiano, che si voleva contraddistinguere molto sulla fotocamera e quindi ho deciso di non tagliarlo fuori. Pixel 5, ovvero il top di gamma di Google, purtroppo non disponibile in Italia. Abbiamo poi un iPhone 12 Pro e poi il quinto non ce l'ho perché l'ho dovuto già restituire, ed è un Sony Xperia 5 Mark II, molto molto interessante. Vi ho caricato le foto, voi avete votato e andiamo a vedere con l'aiuto io qui del mio computer e anche di questo blocco note che è sempre molto molto comodo. Andiamo a vedere quali sono le foto che hanno ricevuto più voti. Partendo dalla prima foto, sono 16 foto, cercherò di essere abbastanza rapido. Questo è uno scatto realizzato in modalità bokeh, da tutte le fotocamere ovviamente. Ho utilizzato lo scatto più stretto possibile su tutti i sensori. Le foto non sono inquadrate troppo similmente, era veramente difficile, senza gli occhiali da sole rimanere nella stessa posizione, con gli occhi aperti, infatti la metà sono con gli occhi chiusi. Lo smartphone che ha preso più voti con il 33,8% in questo caso è iPhone. Passiamo al secondo scatto, che è uno scatto in esterna abbastanza standard, devo essere sincero, qui non c'è le differenze, sono veramente giusto in termini di dettaglio e in termini di colore. E anche in questo caso, tra l'altro con un margine ancora più ampio, e questo è sorprendente, vince di nuovo iPhone con il 34,2% dei voti. Foto numero 3, nella foto numero 3 abbiamo invece a che fare con lo stesso scatto di prima, ma grandangolare, finalmente quest'anno anche il Pixel ha la fotocamera grandangolare, quindi possiamo includere anche lui in questo confronto. E in questo confronto vince con uno scatto veramente importante, devo essere sincero, il Galaxy Note 20 Ultra con il 41,6% dei voti. Andiamo poi a un altro scatto in esterna, questo molto molto semplice, devo dire, quindi senza nessuna particolare difficoltà e con una luce, devo essere sincero, anche abbastanza diffusa. E anche qui, sempre con uno scatto abbastanza marcato, con il 39,3% dei voti, vince di nuovo Galaxy Note 20 Ultra. Lo scatto numero 5 invece è uno scatto zoom 2x, scatto zoom 2x, tutti gli smartphone, scusate, non tutti gli smartphone perché il Pixel non ce l'ha, ma gli altri smartphone hanno uno zoom, alcuni 2x, alcuni 3x, però insomma è comunque quindi uno zoom al massimo delle possibilità. In questo caso abbiamo un vincitore che è iPhone, iPhone 12 Pro, che vince con uno scatto del 34,2%, seguito però a ruota dal Note, che ha un 31,1% dei voti. Proseguiamo poi con la foto zoom 5x, qui alcune fotocamere, alcuni smartphone, in particolare il Vivo e il Samsung, hanno un sensore 5x, e quindi quello che è successo è che appunto il Vivo ha vinto, con il 49,3% dei voti, uno scatto decisamente importante rispetto a tutti gli altri concorrenti. Foto numero 7, selfie con mascherina, qui alcune sono ribaltate e cambia molto anche come sono stati bilanciati i colori, devo essere sincero, le foto sono molto diverse, vince con uno scarto proprio risibile, Note con il 28,8% dei voti, seguito dal Pixel con il 28,3% e da iPhone con il 23,3%, quindi tutti molto molto vicini con i loro voti. Altra foto sempre all'esterno, in buone condizioni di luce, ma con un forte controluce, quindi qui l'HDR ha avuto un peso decisivo nel far vincere una foto piuttosto che un'altra, e vince in questo caso iPhone 12 Pro, che devo essere sincero quest'anno con il suo HDR ha spinto un po' di più, e vince tra l'altro con il 41,1% dei voti. Anche qui uno scarto molto interessante, fino ad ora iPhone e Note si sono presi quasi tutti i punti. Scatto numero 9, scatto macro, scatto macro ha questo fiore rosa molto molto bello, ovviamente questa è la foto dove il bilanciamento del colore ha probabilmente avuto più importanza nella scelta del vostro voto, ovviamente non essendoci una foto di riferimento non potevate valutare quello, ma avete comunque scelto la vostra foto preferita, e in questo caso ha vinto con un buon margine il vivo, con il 40,2% dei voti, e devo essere sincero è probabilmente la foto che avrei scelto anch'io. Scatto numero 10 è uno scatto sempre in controluce, quindi un altro scatto in cui l'HDR deve lavorare molto, e la foto vincitrice in questo caso è quella di nuovo del vivo, e di nuovo per lo stesso identico 40,2%, anche qui un margine veramente molto ampio. Passiamo poi a una foto di interno, a dei set Lego, qui con la luce del giorno che sta diminuendo, quindi non è molta, non c'è in questo caso fonte di luce artificiale, e lo scatto vincitore è quello del Galaxy Note con il 36,1% dei voti. Andiamo poi alla foto di Nian, e qui devo dire ha sempre con poca luce, con luce artificiale, e qui c'è uno smartphone che ha stravinto, è lo smartphone che in tutti i test ha preso più voti in una singola foto, ed è il Pixel con il 67,7% dei voti, e ve lo dico io perché il bilanciamento del bianco sul muro dietro è quello migliore di tutti, e di conseguenza anche Nian con tantissimo dettaglio nel pelo, ma ha anche il colore migliore di tutti, il colore più bilanciato. Scatto notturno, foto numero 13, in questo caso sempre con un buono scarto abbiamo il Note con il 31,5%, seguito dal Vivo con il 24,2% dei voti, sappiamo che Vivo ha uno stabilizzatore importante, e qui appunto ne fa dimostrazione, anche se comunque vince il Note. Foto 14, sempre notturna, e qui è invece iPhone ad avere la meglio, probabilmente per un bilanciamento fra definizione, colori e tutto il resto migliore, anche qui con un bello scarto, 44,3% dei voti, seguito dal Vivo sempre con il 31,5%. Penultimo scatto numero 15, condizioni di luce totalmente assente, qui abbiamo una foto appunto a un computer, illuminato praticamente soltanto dal LED della scheda audio, e in questo caso a vincere è il Vivo, che ha realizzato probabilmente una foto più bilanciata, quindi qui parliamo appunto di uno scatto impossibile, in cui ragionevolmente qualcun altro avrebbe acceso la luce, oppure avrebbe utilizzato il flash, ma vince il Vivo con uno scarto enorme del 62,1%, ultimo scatto, solo luce artificiale in questo caso al set Lego, e in questo caso a vincere, non con uno scarto enorme, è il Pixel con il 32,4% dei voti, a seguire il Vivo con il 23,3% e il Note con il 22,8%. Siamo arrivati quindi alla fine, e devo essere sincero, c'è uno smartphone di cui avete sentito parlare meno di quello che vi aspettavate, o almeno quello di, meno di cui io mi sarei aspettato, e in questo caso è il Pixel, che è stato citato meno volte di quello che avrei immaginato, in favore del Vivo, che personalmente ne è uscito particolarmente bene. In altri test c'erano altri smartphone, per esempio il Mi Note, scusate il Mi 10, il Mi 10 Pro di Xiaomi, su cui io puntavo molto, e che invece non aveva avuto chissà quale successo. C'è però uno smartphone di cui veramente non avete mai sentito parlare, ed è il Sony, che purtroppo non è mai riuscito a conquistarvi. Le sue foto non sono mai arrivate prime, se non vado errato, sono arrivate seconde solo una volta, in tutti gli altri casi sono arrivate da terzo in giù, quindi c'è sicuramente ancora qualcosa da fare. Sempre con l'aiuto del mio blocco note, se prendiamo i singoli punti, iPhone ha preso 5 vittorie, Samsung ha preso 5 vittorie, Vivo ha preso 4 vittorie, il Pixel ha preso 2 vittorie, e il Sony ne ha prese 0. È però una divisione molto semplicistica, e quindi ho fatto anche un'altra cosa. Ho preso tutti i voti, li ho sommati, li ho ridivisi in percentuale, e vediamo qual è lo smartphone che ha preso più voti in assoluto. In questo caso sarete sorpresi di scoprire che con oltre il 23% dei voti, il Vivo è quello che ha preso più voti di tutti, seguito dall'iPhone con il 22,5, dal Note con il 22,2, il Pixel con il 20, quindi capite che, nonostante iPhone, Note e Pixel abbiano avuto vittorie molto diverse, i punti totali però sono relativamente abbastanza simili, e poi abbiamo invece l'Xperia che arriva quasi al 12% dei voti, che purtroppo, come dicevo, è rimasto abbastanza indietro. Confronto che trovo molto interessante, e a grandi linee si ritrova anche nel mio parere, ovvero un Vivo sorprendente. Note e Pixel, che probabilmente, secondo me, sono ancora gli standard per chiunque. Sono i due smartphone su cui probabilmente, se vi interessa soltanto prendere lo smartphone e scattare, sono probabilmente le due soluzioni migliori. Un Pixel che quest'anno è indubbiamente un po' rimasto indietro, sarà l'assenza della fotocamera Zoom, sarà l'assenza comunque di altri miglioramenti, magari nella tecnologia o nel software, e poi abbiamo il Sony, che mi è piaciuto come fotocamera, ma che effettivamente, rispetto a questi altri quattro contendenti, perde ancora qualcosina. È ovvio che sembra che sia stato devastato da questo test, semplicemente è probabilmente solo il quinto in catena fra i migliori smartphone fotocamera, ma è comunque uno smartphone che, se mi venisse chiesto di proporre appunto delle soluzioni per smartphone che fanno ottime foto, io comunque lo includerei. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, perché? Perché è arrivato un altro contendente molto interessante nel mondo delle fotocamere, che è Huawei Mate 40 Pro, che non sono riuscito a includere per questioni di tempo in questo test, e che spero di poter includere nel prossimo. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, grazie per averci seguito, un saluto da Emanuele Cisotti per MobileWorld.it. Emanuele Cisotti per MobileWorld.it.it. Emanuele Cisotti per Mobile world.it.it. Emanuele Cisotti per Mobile.it.it.